Michele Vignola e Gerardo Adiglietti entrano nel comitato direttivo dell'ASI. I due esponenti del Partito Democratico prendono il posto di Salvatore Vestuto e Filuccio Tangredi. Mantiene la carica di presidente Giulio Belmonte, così come restano nel CDA Maurizio Petracca e Modestino Iandoli. Passa dunque l'accordo PD-UDC, mentre per un solo voto restano fuori centrodestra e Forza Italia. 27 i consensi per Vignola, 17 per Adiglietti, 1 in meno, 16 per Gino Cusano, delegato della provincia sostenuto da Gamba Corta, candidato a rappresentare l'Ufita. Dunque dopo settimane di polemiche si riparte. Resta da chiarire un solo punto fondamentale. Le nuove norme infatti prevedono l'incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di membro del comitato direttivo dell'ASI. Ciò significa che Vignola, primo cittadino di Solofra, presto potrebbe essere dichiarato decaduto. Si attende parere legale entro 15 giorni. Dal punto di vista politico l'operazione ASI certifica il riavvicinamento tra Demitiani e PD. Da registrare anche la diminuzione dei membri del CDA da 7 a 5 e la riduzione delle indennità, così come previsto dalla Spending Review. Siamo in una fase di transizione. Abbiamo bisogno di mettere insieme tutte quante le energie e quindi tutte le comunità. I sindaci, dal punto di vista istituzionale, stanno insieme per risolvere gli enormi problemi che hanno le nostre comunità e i nostri territori. C'è bisogno di una nuova politica di sviluppo industriale per la nostra provincia. Sindaco, c'è questa vicenda dell'incompatibilità che i sindaci non potrebbero essere nel CDA? Questo si verificherà, non c'è nessun problema, quindi sarà al vaglio e all'attenzione di tutte le competenze e quindi si verificherà al momento opportuno. Lo ha detto il Presidente stamane, ci sono dei termini, entro 15 giorni si chiarirà tutto. Facciamo chiarezza, nel senso che si è votato nel segreto dell'urna e ogni sindaco, un delegato, un nominato ha espresso liberamente il proprio nominativo. Fatta questa premessa, ma così a titolo di cronaca, non di polemica, nella maniera più assoluta, ma per chiarezza, nel Consiglio di amministrazione comunque c'è un delegato del Presidente Caldoro e quindi che rappresenta il centro-destra. Il Presidente del Collegio è votato che l'unico organo di controllo dell'ASI è nominato dal Presidente del Consiglio regionale, per cui diciamo una rappresentanza del centro-destra comunque c'è. Si è parlato di incompatibilità, è fondata questa ipotesi? Io non sono un giurista, dato che tutti sono giuristi e in questo periodo, negli ultimi mesi, nell'ultimo mese ho assistito di tutti e di più sui giornali e come vedete non ho fatto nessuna dichiarazione, prenderò il tempo per dare una risposta, abbiamo 15 giorni di tempo dell'incompatibilità o compatibilità che fa l'eletto oggi, a me perlomeno, dico a me, non risulta l'incompatibilità.